Grazie 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 Tu si può alzare un pochettino la voce Eh, ok, però è forte Sono forte Sì, noi siamo a una stanzetta piccola Certo, vabbè, in chiesa non è così, lo sappiamo Sì, sì Sì, sappiamo come sia un forte vento metri C'è un blocco Ma prima mi sento io Sì 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 Buon Natale! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.